Eserci sempre, proprio questo è il senso della nostra presenza e teniamo conto che è stato un anno difficile, un anno da ultimo, vede grandi manifestazioni, anni di protesta, si parlava del certificato vaccinale, però la nostra gente, le forze di polizia hanno saputo svolgere il loro ruolo sempre con grande professionalità ma anche con grande umanità e la nostra linea anche nelle manifestazioni non è una linea soft, è una linea che vuole comprendere quelle che sono le esigenze degli altri, di chi manifesta, ma nello stesso tempo con la fermezza di proteggere invece nel bilanciamento dei diritti di coloro che invece vogliono il rispetto delle re in area. La professionalità è anche quella di andare incontro a chi è più debole, a coloro che sono in condizioni di fragilità e su questo dobbiamo dire che abbiamo avuto grandi esempi. Allora se andiamo a vedere le pagine di questo calendario, allora andiamo alla prima pagina, non è che voglio ripercorrere tutto quello che è stato detto fino ad ora, però i due atleti che ci hanno rappresentato e tenono qua in rappresentanza di tutto un gruppo di atleti che noi abbiamo ricevuto alla Viminale, con grande piacere e che hanno dato onore non soltanto alla divisa ma anche al nostro paese perché è stato un anno incredibile, non so quante medaglie noi abbiamo preso nelle Olimpiadi, nelle Parolimpiadi a Tokyo, quindi ogni tanto mi arrivava un messaggio del capo della polizia dove mi raccontava un'altra medaglia d'oro, un'altra medaglia d'argento e noi veramente gioivamo di queste vittorie che rappresentavano l'Italia ma noi abbiamo molto senso di appartenenza, davvero rappresentavano anche una divisa di cui erano onorati di portare, l'abbiamo insentito. E anche il fatto di aver fatto un richiamo ai 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino e come dicevano prima, io ricordo esattamente, diceva il nostro attore qui presente, ricordo esattamente cosa faceva, io credo che ognuno di noi, io almeno me lo ricordo esattamente, sia il 23 di maggio sia il 19 di luglio, sono date che ricordiamo esattamente, io ricordo quello che facevo in quel momento, cioè è una cosa incredibile, come quando mi dicono le torri gemelle, io ricordo anche quegli eventi talmente gravi, talmente che vorrei ricordare anche il ruolo delle forze di polizia proprio nella giornata, il 25 di domani saremo a Catania, il 25 che è la giornata contro il femminicidio e allora anche lì l'attività che fanno di ascolto per cercare anche di stare vicino alle vittime e anche aiutarle nel fare la denuncia che tante volte le vittime hanno tanta difficoltà a portare avanti e non soltanto la difficoltà a fare la denuncia ma anche a supportarli una volta fatta la scelta di proseguire sulla strada di salvare la propria vita, la vita dei propri figli e allora anche su questo voglio dire soltanto una grande professionalità fa sì che tu puoi accompagnare e far parlare le vittime, essere vicino, delle stanze dedicate, tra l'altro la polizia ha anche un'app U-Call che con un semplice click ti collega e quindi si ha la possibilità di far arrivare immediatamente l'operatore perché con la geolocalizzazione individuale dove stanno quindi quando tu sai che non sei sola, che c'hai dietro una struttura, che c'hai dietro davvero una famiglia che ti aiuta a sopportare anche quelle che sono le difficoltà che puoi avere necessariamente sul lavoro e allora questo fa sì che oggi noi dobbiamo essere soltanto che grandi a tutti coloro che operano sul territorio con grande professionalità anche a rischio della propria vita e un ricordo ma anche a tutti coloro che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio figlio grazie